Dal Vangelo di Giovanni In quel tempo, Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima perché era un menticante dicevano Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina. Alcuni dicevano È lui Altri dicevano No, ma è uno che gli assomiglia Ed egli diceva Sono io Allora gli domandarono In che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango Mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto Va a Siloe e lavati Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista Gli dissero Dov'è costui? Rispose Non lo so Condussero dai farisei quello che era stato cieco Era un sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango E gli aveva aperto gli occhi Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista Ed egli disse loro Mi ha messo del fango sugli occhi Mi sono lavato e ci vedo Allora alcuni dei farisei dicevano Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato Altri invece dicevano Come può un peccatore compiere segni di questo genere E c'era dissenso fra loro Allora dissero di nuovo al cieco Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose È un profeta Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco E che avesse acquistato la vista Finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista E li interrogarono È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco Ma come ora ci veda non lo sappiamo E chi gli ha aperto gli occhi noi non lo sappiamo Chiedetelo a lui All'età Parlerà lui di sé Questo dissero i suoi genitori Perché avevano paura dei giudei Infatti i giudei avevano già stabilito Che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo Venisse espulso dalla sinagoga Per questo i suoi genitori dissero All'età Chiedetelo a lui Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco E gli dissero Da gloria a Dio Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore Quello rispose Se sia un peccatore non lo so Una cosa io so Ero cieco E ora ci vedo Allora gli dissero Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro Ve l'ho già detto e non avete ascoltato Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Lo insultarono E gli dissero Suo discepolo sei tu Noi siamo discepoli di Mosè Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio Ma costui non sappiamo di dove sia Rispose loro quell'uomo Proprio questo stupisce Che voi non sapete di dove sia Eppure mi ha aperto gli occhi Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori Ma che se uno onora Dio E fa la sua volontà Egli lo ascolta Da che mondo è mondo Non si è mai sentito dire Che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato Se costui non venisse da Dio Non avrebbe potuto far nulla Gli replicarono Sei nato tutto nei peccati E insegni a noi E lo cacciarono fuori Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori Quando lo trovò gli disse Tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose E chi è, Signore? Perché io creda in Lui? Gli disse Gesù Lo hai visto È colui che parla con te Ed egli disse Credo, Signore E si prostrò dinanzi a Lui Gesù allora disse È per un giudizio Che io sono venuto in questo mondo Perché coloro che non vedono Vedano E quelli che vedano E quelli che vedono Diventino ciechi Alcuni dei farisei Che erano con Lui Udirono queste parole E gli dissero Siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro Se foste ciechi Non avreste alcun peccato Ma siccome dite Noi vediamo Il vostro peccato rimane Sorelle e fratelli carissimi Siamo arrivati alla quarta domenica di Quaresima La domenica della gioia E protagonista del Vangelo di questa domenica È un cieco nato che Gesù guarisce Come domenica scorsa Gesù si era proposto come l'acqua viva Che disseta ogni sete del nostro cuore Così oggi si presenta come la luce del mondo Per questo motivo Proprio perché c'è un cieco che viene guarito La buona novella vi raggiunge Dalle stanze del Museo Diocesano di Lanciano Dove è depositato il quadro che vedete alle mie spalle Che raffigura appunto la guarigione di un cieco Da parte di Gesù E che appartiene al patrimonio della parrocchia di San Nicola Ed è qui per essere restaurato Questa guarigione miracolosa Che Gesù realizza nei confronti del cieco Ha come contesto la festa delle capanne e il Tempio La festa delle capanne insieme con la festa di Pasqua E la festa di Pentecoste Era la più importante per gli ebrei Arrivava nell'autunno Al termine della stagione agricola Dopo la vendemmia Ed era un'occasione per ringraziare il Signore Dei frutti che la stagione aveva prodotto Nello stesso tempo era anche un'occasione Per ricordare il percorso di libertà Che il popolo degli ebrei aveva fatto Dall'Egitto alla terra promessa attraversando il deserto Ricordando appunto le tende, le capanne Che gli ebrei avevano utilizzato nei 40 anni di questo tragitto Questa festa era connotata da due caratteristiche fondamentali La liturgia dell'acqua e la celebrazione della luce Ogni mattina il sacerdote partiva dal Tempio di Gerusalemme Percorreva una strada che lo portava proprio alla piscina di Siloe Quella dove Gesù aveva mandato il cieco perché si lavasse e potesse essere guarito Questa piscina era molto grande, circa 4.000 metri quadrati E aveva una caratteristica L'acqua che in essa si trovava era un'acqua che proveniva direttamente da una sorgente La sorgente del Ghion Che attraverso un tunnel di 530 metri giungeva direttamente alla piscina Era come se questa acqua convogliata nel tunnel fosse inviata alla piscina Perciò avevano dato il nome di Siloe Che significa, come abbiamo ascoltato dalla lettura del Vangelo, inviato Ma a Gesù non interessa tanto l'acqua inviata direttamente alla piscina Non è che per questo motivo veniva considerata pura e quindi utilizzabile per i riti nel Tempio Ma che quell'acqua fosse espressione dell'inviato Era l'acqua dell'inviato Era l'acqua di Gesù Era l'acqua alla quale il cieco si lavò e riebbe la vista Rappresenta l'acqua del battesimo nella quale noi ci laviamo Nella quale siamo immersi e dalla quale usciamo come creature nuove Che ci vedono e che ci vedono bene e lontano Il sacerdote nell'andare alla piscina, nel tornare al Tempio Era sempre accompagnato da tanta gente e dai leviti Che suonavano gli strumenti musicali, che cantavano le lodi di Dio E il percorso veniva, li riportava al Tempio di Gerusalemme Dove quell'acqua che il sacerdote aveva attinto con una brocca d'oro Veniva versata sull'altare del Tempio A simboleggiare la richiesta delle piogge autunnali Così necessarie per i raccolti dell'anno successivo Insieme con l'acqua, come vi accennavo, protagonista è la luce Tutta Gerusalemme splendeva di luce In quei sette giorni della festa delle capanne Le luci, le fiaccole, le torce erano ovunque Quattro davvero gigantesche, immense Erano anche nell'atrio delle donne All'interno del Tempio di Gerusalemme E questo stava a simboleggiare la luce di Dio Sta a simboleggiare per noi la luce di Cristo Che come già Zaccaria, il papà di San Giovanni Battista, disse Nel suo inno è come sole che sorge per rischiarare Quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte O come Giovanni Evangelista dice nel prologo È venuta nel mondo la luce vera Quella che illumina ogni uomo Questa luce veniva portata anche agli ammalati E anche a coloro che erano nel lutto Perché la luce del Signore doveva raggiungere ogni luogo Ogni situazione, ogni persona Non solo chi stava bene Ma anche chi era nella sofferenza Per la malattia o appunto per la morte Se non comprendiamo questo contesto Con difficoltà noi capiamo che Giovanni Non ci sta semplicemente raccontando la guarigione di un cieco Ma ci sta raccontando una parabola Una metafora, una immagine Attraverso la quale Gesù ci dice di aver compiuto realmente un miracolo Ma ci apre una prospettiva Perché ognuno di noi possa passare dalle tenebre alla luce Dalle tenebre del peccato Dalle tenebre di uno sguardo vecchio Dalle tenebre dell'uomo vecchio Alla luce del mondo nuovo Dell'uomo nuovo Di una nuova vita E tutti i gesti che Gesù compie Tutte le parole che si succedono in questo racconto Tutto serve perché possiamo comprendere la necessità di questo passaggio Non è un peccato nascere ciechi Dice Gesù agli apostoli che gli chiedevano di chi fosse la colpa Perché l'uomo di fronte a una realtà che non riesce a risolvere Sono due le cose che può fare O le accetta in modo ineluttabile Questa persona è cieca Non si può fare niente Oppure cerca un colpevole Di chi è la colpa? Perché quest'uomo è nato cieco? Gesù dice È un evento Il fatto che quest'uomo sia nato cieco Non è colpa di nessuno Né di lui Né dei suoi genitori Noi nasciamo ciechi Anche i bambini piccoli Di solito all'inizio non riescono a seguire i movimenti davanti a loro Le voci che sentono I volti che vedono Hanno bisogno di un po' di tempo Per mettere a fuoco con precisione Quello che accade intorno a loro Gesù ci sta dicendo Noi nasciamo ciechi Noi nasciamo schiavi delle passioni Noi nasciamo con lo sguardo rivolto in basso La guarigione che Gesù opera Ci permette di guardare in alto Di alzare i nostri occhi Di vedere la luce E di avere una vita da illuminati Come erano i battezzati Dopo aver ricevuto questo sacramento Come ciascuno di noi è diventato Dopo aver ricevuto Il sacramento del battesimo E il dono dello Spirito Santo Allora immergiamoci in questo percorso Iniziamo insieme con l'Evangelista Giovanni Il cammino che egli vuole farci fare Guidati da questo cieco Che ormai è un ex cieco Che adesso ci vede E attraverso i vari passaggi Noi comprenderemo ciò che il Signore ci chiede Questo verbo vedere È un verbo davvero con una miriade di significati Che noi usiamo in moltissimi modi Ad esempio Se dobbiamo mettere in guardia qualcuno Diciamo Apri gli occhi Ti possono imbrogliare Specialmente attraverso tante frodi Telematiche Informatiche Di cui oggi possiamo essere attentati Questa attenzione Ad aprire gli occhi È molto importante Oppure quando uno è troppo ottimista Quando uno è troppo ingenuo Noi diciamo che vede tutto rosa Al contrario Quando uno è pessimista Noi diciamo che vede tutto nero Quando noi abbiamo di fronte a noi Una persona particolarmente avara Particolarmente attenta al denaro Diciamo Vede solo i soldi E quando invece davanti a noi Vediamo una persona intelligente Una persona perspicace Noi diciamo Vede lontano Ecco Il Signore vuole Che noi oggi Vediamo lontano Vediamo Cosa c'è Dietro l'apparenza Dietro la superficie Vuole che noi vediamo La sostanza delle cose La sostanza Della nostra realtà di persone La sostanza Dell'identità stessa Di Dio Vuole Gesù Che noi Come questo cieco Apriamo gli occhi Ma abbiamo bisogno Di una nuova creazione Gesù infatti A questo cieco Spalma Un po' Di fango Che aveva fatto Con la sua saliva Che era il condensato Del suo spirito Secondo la mentalità Degli antichi E lo guarisce Mandandolo però Alla piscina di Siloe Inviandolo Alla piscina Dell'inviato Perché da Gesù Egli potesse essere guarito Ma questo significa Che l'uomo Ha dovuto fare Un atto di fede Ha dovuto Fidarsi Di Gesù Ha dovuto Mettere la sua vita Nelle mani Di Gesù Per poter avere Il dono Di questo miracolo Avrebbe potuto Dirgli di no Avrebbe potuto Dirgli Ma chi sei Non ti conosco Invece Si fida Si affida Fa Quello che Gesù Che lui non conosceva Gli aveva detto Di fare E ci vede La nuova creazione Questo cieco guarito Rappresenta L'umanità Che può essere Creata di nuovo Che può diventare Nuova creatura La cosa strana È che Proprio una volta guarito Questo cieco Comincia ad avere Delle difficoltà Finché le cose Andavano Come sempre Finché lui Stava Gettato Ai bordi Di una strada Seduto A chiedere L'elemosina Sembrava Non desse fastidio A nessuno Adesso Che ha Gli occhi Per vedere Adesso Che ha acquistato Una nuova autonomia Adesso Che può muoversi Liberamente Sembra dar fastidio A tutti Viene addirittura Denunciato Alle autorità Religiose Agli iscrivi E ai farisei I quali Cominciano Una serie Di interrogatori Che Permettono A questo cieco Di fare Dei passi In avanti Sulla strada Che Gesù Gli aveva indicato Infatti Come abbiamo Ascoltato All'inizio Questo cieco Non sa Chi è Gesù Non sa Nulla di lui Poi Intuisce Che è un profeta Poi Poi fa la sua Professione In Gesù Come figlio Dell'uomo Come figlio Di Dio Come uomo Perfettamente Riuscito Come uomo Perfettamente Realizzato Come uomo Nuovo Ad immagine Del quale Ognuno di noi Deve Vivere Quindi Paradossalmente I nemici Di Gesù Coloro Che non Volevano Riconoscere La verità Che negano L'evidenza Di fronte A questo cieco Guarito Sono coloro Che aiutano Questo cieco A fare tutto Il percorso Della fede A terminare Il percorso Che lo porta Ad essere Una nuova creatura Interrogano Perfino I genitori Che nell'Israele Di un tempo Erano i depositari Della tradizione Coloro Che dovevano Inculcare Nei figli I valori Dei padri E loro Dicono Noi non c'entriamo Niente Noi abbiamo Fatto nascere Questo uomo E quando lui è nato Era cieco Ma da dove gli viene Questa luce Noi non lo sappiamo E dicono così Perché avevano paura Paura di essere Scacciati Dalla sinagoga Essere scacciati Dalla sinagoga Dalla società Religiosa Di quel tempo Aveva delle Conseguenze sociali Gravissime Si perdeva il diritto All'eredità Si perdeva facilmente Il lavoro Non si veniva più Riconosciuti Come membri Di quella società Di quella comunità E quindi si viveva Da isolati E loro non volevano Correre questo rischio Addirittura Negano Che quello Era un figlio guarito Dicendo Noi non sappiamo Come è successo Lui è grande C'ha l'età Chiedetelo Direttamente A lui E loro vanno A chiederlo E glielo chiedono Più volte E proprio in questo modo Come già accennavo Aiutano Questo cieco A diventare Un uomo Consapevole Di sé Sempre più libero Parte da non sapere Come diceva Il buon vecchio Socrate Io so di non sapere Non sa Chi era Quell'uomo Non sa Da dove veniva Non sa niente Di lui Ma man mano Acquista Consapevolezza Man mano Diventa più libero Man mano diventa Più uomo Man mano diventa Più realizzato Man mano Esprime un coraggio Che nemmeno credeva Di avere Una libertà Che non aveva mai Sperimentato Lasciamoci aprire Anche noi Gli occhi da Dio E faremo Lo stesso percorso Che questo cieco Poi guarito Ha fatto Anche noi Non abbiamo responsabilità Se all'inizio Siamo ciechi Anche noi Non commettiamo peccato Se diciamo di non sapere Ma dobbiamo affidarci al Signore Come questo cieco Ha fatto E anche noi Sperimenteremo L'apertura Dei nostri occhi Vedremo le cose Come le vede Dio Scopriremo Il senso Della nostra esistenza Da dove veniamo Perché viviamo Verso dove stiamo andando E avremo il coraggio Di dare questa testimonianza Davanti a tutti Anche se dovessimo Essere cacciati Dalla sinagoga Cioè anche se dovessimo Essere messi ai margini Della società Del resto Gesù lo ha detto Hanno perseguitato me Perseguiteranno Anche voi Se voi siete Miei discepoli Farete la stessa fine Che ho fatto io Gesù stesso Fu cacciato Dalla città Di Gerusalemme E ucciso Sulla croce Fuori Dalle mura Della città Ma anche se Stiamo ai margini Noi vedremo E chi ci ha cacciato fuori Anche se sembra essere Il protagonista Della storia Non vedrà E quello sarà Il suo peccato Smettiamo Di vivere Nelle tenebre E cerchiamo La luce Della vita Non commettiamo L'errore Di quei farisei E di quegli iscrivi Che la luce Venne nel mondo Ma loro hanno preferito Le tenebre Alla luce Abbracciamo La luce E alla luce Del Signore Avremo una vita Pienamente umana Avremo una vita Pienamente cristiana Da veri figli di Dio Da fratelli e sorelle Fra noi